Ciao, sono Zane di Turbola.it. Come probabilmente saprai se hai letto il mio articolo oppure visto il mio video dei giorni scorsi, Facebook ha finalmente lanciato la sua attesissima criptovaluta Libra. È un'idea valida? È un'idea banale? Nei prossimi minuti voglio darti la mia personalissima opinione e fare qualche confronto fra Libra e le altre criptovalute in circolazione. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Ok, innanzitutto cominciamo. Libra è veramente una criptovaluta? Secondo me sì, nel senso che utilizza un sistema a due chiavi, privata e pubblica, utilizza la criptografia, le chiavi sono a disposizione dell'utente, è presente una blockchain ispezionabile, è aperta e pubblica. Quindi ci sono tutti gli elementi tecnologici che fanno di questa valuta una criptovaluta. Il problema è che rispetto a Bitcoin, Libra, almeno nella configurazione attuale, è una criptovaluta estremamente oligarchica, ovvero tutto il discorso della decentralizzazione, del controllo del proprio denaro, del controllo dell'inflazione e sul tasso di emissioni delle nuove monete, che sono uno dei cavalli portanti di Bitcoin dal punto di vista filosofico e non tecnologico, sono completamente assenti in questa valuta Libra. C'è un'entità centrale che era proprio quello che Bitcoin mirava a distruggere. Inoltre nella rete Bitcoin tutti i partecipanti sono uguali, nel senso che l'unica cosa che li rende diversi l'uno dall'altro è la potenza di calcolo che possono partecipare alla rete dal punto di vista della validazione delle transazioni, mentre invece, come abbiamo detto nel video dei giorni scorsi, Libra utilizza un modello molto centralizzato in cui sono solo pochi nodi eletti a poter validare le transazioni. Questo è un grosso problema perché in una rete come Bitcoin, nella quale c'è moltissima decentralizzazione, moltissima distribuzione dei nodi che validano, per poter compromettere la rete è necessario che moltissime persone si mettano d'accordo tra loro. Questo accordo significa sferrare un attacco di tipo 51% alla rete Bitcoin e quindi riscrivere parte delle transazioni oppure bloccare un determinato wallet oppure annullare determinate transazioni o spendere una o più volte le stesse monete. Come sapete, se avete guardato il mio video delle settimane scorse, un attacco 51% a Bitcoin non è matematicamente impossibile, però è praticamente inaffrontabile, ovvero che costerebbe moltissimo, sarebbe enormemente difficile da orchestrare e ci sono un'altra serie di cose che mi portano a dire che per quanto riguarda la compromissione della rete Bitcoin possiamo dormire davvero sonni molto tranquilli. Invece per quanto riguarda una rete con poche persone come quella dei validatori di Libra si tratta di tutt'altro discorso. C'è veramente la possibilità che alcuni di questi soggetti possono organizzarsi per cospirare contro la rete. L'altro aspetto importante di Bitcoin è che sostanzialmente chiunque può tramite il mining creare delle nuove monete. È vero, serve tantissima potenza di calco, però tecnicamente chiunque può creare nuove monete dal nulla. Inoltre, incontrandosi ad esempio con un'altra persona potremo effettuare uno scambio in modo totalmente anonimo di monete e quindi non lasciare nessuna traccia di un determinato pagamento. Con Libra la cosa è decisamente più sottile, ovvero è coinvolto Facebook tramite la sua sussidiaria Calibra, quindi di fatto c'è già un'entità che come ben sappiamo è sempre molto interessata a ficcare il naso negli affari nostri per raccogliere delle informazioni personali da rivendere poi agli inserzionisti affinché ci possono proporre pubblicità sempre più mirata e quindi sempre più efficace. Quindi ci sono secondo me delle grosse preoccupazioni anche dal punto di vista della privacy. Ovviamente c'è chi può dire io non ho niente da nascondere, non ho nessun problema se Facebook mi traccia o mi tiene d'occhio, però a tanti altri, soprattutto qualcuno che magari deve fare dei pagamenti per degli aspetti che possono essere sensibili oppure delicati da affrontare, potrebbe essere una scocciatura. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Venendo agli smart contract, Bitcoin non è una piattaforma forte per gli smart contract, quindi faccio un confronto con Ethereum. Su Ethereum chiunque può semplicemente proporre la prossima applicazione distribuita, pagare il costo di deploy dello smart contract ed essere immediatamente operativo. Non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno. In questo momento invece su Libra questa possibilità non è prevista. Ci verranno implementati presto gli smart contract con il linguaggio proprietario move che sembra essere molto interessante, però di fatto non saranno a disposizione di noi piccoli sviluppatori. Saranno inizio all'appannaggio dei grossi sviluppatori e solo successivamente la rete verrà aperta. Quindi di nuovo un discorso molto oligarchico. Un aspetto invece secondo me in cui Libra sarà sicuramente molto molto superiore rispetto a tutte le altre criptovalute sarà la semplicità d'uso. Come dicevo nel video l'altro giorno, il wallet di Libra verrà integrato sostanzialmente in tutte le applicazioni Facebook, Whatsapp, Instagram eccetera e quindi sarà molto semplice per le persone che già utilizzano in massa questo strumento scambiarsi dei valori. Questa non è solo un'ipotesi o una fantasia perché nei paesi dell'Asia ad esempio va moltissimo tramite Line e WeChat lo scambio di denaro proprio tramite questi sistemi. In quel caso si tratta di qualcosa di centralizzato, gestito a livello centrale tramite una classica struttura server dei gestori di queste applicazioni, mentre qui c'è una blockchain. Però l'aspetto blockchain probabilmente verrà completamente nascosto ed affogato nella semplicità d'uso dell'interfaccia di chi appunto vorrà scambiare moneta. Quindi secondo me rispetto soprattutto alle complessità che ci sono ancora in questo momento per le applicazioni e per i programmi per pc e che hanno a che fare con bitcoin e con tutte le altre criptovalute, secondo me questo potrà essere una cosa molto positiva. Un altro aspetto per il quale Libra secondo me è un'iniziativa sicuramente da tenere d'occhio perché è molto importante è il fatto che porterà il discorso criptovalutario sotto gli occhi di qualche milione di persone. Infatti mentre bitcoin, ethereum, litecoin e tutti gli altri in questo momento si stanno muovendo con forze marketing piuttosto limitate nel senso che non hanno milioni di persone a disposizione che già usano uno strumento che possono cavalcare per presentarsi ma devono convincerli a venire a bordo. Quindi devono proprio convincerli a documentarsi, capire come funziona, installare il software e un sacco di menate che le persone normali non vogliono assolutamente fare. Libra invece grazie al cavallo di troia che è facebook ha già moltissime persone che utilizzano questo strumento e quindi si rivedranno recapitate la possibilità di gestire il proprio denaro ed effettuare dei pagamenti. E' vero non c'è la decentralizzazione in senso stretto però comunque credo che sia una buona cosa che alle persone venga presentata questa opzione che è sicuramente molto diversa da paypal oppure dall'utilizzo delle carte di credito. Quindi riassumendo il massimo Libra non mi piace per l'aspetto molto oligarchico e per il fatto che comunque ci sarà facebook coinvolta con il suo nasaccio che verrà a ficcare probabilmente in vari modi nei nostri affari mentre mi piace invece moltissimo per il fatto che sarà tutto molto semplice ad utilizzare e presenterà questa tecnologia cripto anche agli utenti che non sono tecnologicamente avanzati. Bene da Zonaditurbola.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto per me è sempre estremamente importante quindi grazie in anticipo se lo farai. Fammi sapere anche sotto questo video che cosa ne pensi di Libra se sei d'accordo con le osservazioni con gli aspetti positivi e quelli negativi che ho citato se invece ne hai di altri ti leggerò sempre con tantissimo interesse fammi sapere che cosa ne pensi. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella qui sotto. Al prossimo video ciao